Dopo la vittoria nel derby con l'Alife, il Treppini, unica squadra, punteggio pieno, dopo la seconda giornata del campionato di eccellenza, sabato è di scena, sesto campana dove è attesa da un compito assolutamente alla portata a patto che la concentrazione sia davvero al massimo. L'Alife invece cerca il riscatto in casa al Marco Spinelli di Alife contro il Venafro, squadra di tutto rispetto quest'ultima, ma l'impegno per i ragazzi del presidente Gian Matteo non è assolutamente proibitivo, soprattutto se la squadra dovesse ripetere la stessa prestazione per intensità e grind fatta a piedimondo lo scorso sabato nel derby, nonostante ridotta in dieci uomini per una espulsione arrivata troppo presto e che ha certamente condizionato negativamente la gara. Grazie a tutti.